Musica Esecuzioni immobiliari tra modifiche normative ed esigenze di mercato. Se ne è parlato in un convegno il 13 giugno a Milano organizzato dall'osservatorio T6. Quali sono le novità normative per le procedure per l'esecuzione immobiliari? La principale novità normativa introdotta con decreto legge 83 2015 sicuramente consiste nella possibilità per la giudicatora all'asta di acquistare l'immobile al 75% del suo valore base. Questo consentirà probabilmente un risparmio nella spesa delle procedure esecutive perché si dovranno pubblicizzare un minor numero di avvisi e consentirà ai cittadini di acquistare a prezzi più vantaggiosi sul mercato delle aste immobiliari. Giudice, questo potrà consentire di abbassare un po' i tempi per le procedure? Sì, la previsione va esattamente in questa direzione perché se una volta bisognava fare una vendita al 100% e poi era possibile ridurlo al 75% e poi di volta in volta ancora di un quarto, oggi direttamente con la prima vendita si effettua un tentativo al 75%, ciò che consentirà con elevata probabilità di ridurre complessivamente il tempo delle procedure. Grazie a tutti.